E' certamente sussistente, quantomeno per la prosecuzione dei lavori in epoca successiva all'annullamento del provvedimento di revoca delle revoche, la consumazione a livello indiziario del reato di abuso edilizio nella realizzazione di infrastrutture militari costituenti il sistema radar americano MUOS in Sicilia. E' quanto scrive la Cassazione nelle motivazioni depositate in merito alla conferma del sequestro del MUOS che rileva il verdetto, è stato disposto con finalità di salvaguardia dell'ambiente e della salute degli abitanti. Ad avviso della Cassazione non ha meritato accoglimento la tesi dell'avvocatura dello Stato che per conto del Ministero della Difesa chiedeva l'annullamento della conferma del sequestro del MUOS che sorge in Contradaulmo a Niscemi. Secondo l'avvocatura erariale, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana ha sostanzialmente sancito le piene regolarità urbanistica dell'opera e la validità dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla sovrintendenza ai beni culturali ed ambientali di Galtanissetta e del nulla osta dell'azienda regionale Foreste, residuando solo accertamenti su eventuali pericoli per la salute umana. Nella sua memoria difensiva, l'avvocatura dello Stato ha insistito nel dire che i rischi per la salute degli abitanti sono del tutto estranei alle esigenze cautelari perseguite con il decreto di sequestro che esulano dalla contestazione provvisoria. La Cassazione ha replicato che la sentenza amministrativa non solo non ha affermato la illegittimità dei provvedimenti di revoca delle revoche, ma ha disposto ulteriori accertamenti sui pericoli per la salute dell'uomo nell'insediamento in questione. Pericoli che, prosegue la sentenza della terza sezione penale relativa all'udienza svoltasi lo scorso 21 gennaio, non sono certamente estranei ai valori tutelati dalle norme in materia paesaggistica ed ambientale. Va ricordato al riguardo che l'ambiente non costituisce solo un valore estetico da salvaguardare nella sua staticità, ma luogo nel quale l'uomo esprime la propria personalità individuale e sociale senza pregiudizio per la salute, elevata a diritto fondamentale dell'individuo ed interesse della collettività. Con questa decisione la Suprema Corte ha confermato l'ordinanza con la quale il Tribunale della Libertà di Catania lo scorso 27 aprile aveva confermato il sequestro del sistema satellitare americano.